Bella raga stavo facendo un recap di tutto quello che succede nella prima fase della patch 1.2 e ho pensato ok quasi quasi mentre lo metto su discord faccio anche il video così lo vedete tutti insomma e comunque apro chiudo a parentesi e discord è aperto a tutti trovate il link in descrizione pubblico tutte le cose tema star rail o anche no e c'è tutta la community di quindi se volete siete liberissimi di entrare è libero a tutti e per quanto riguarda invece la prima fase della patch 1.2 abbiamo banner di blade e light con dal 19 luglio all'8 agosto ovviamente arlan su shang e natasha in rate up e poi abbiamo sbordo play shared feeling e secret wow in rate up insieme a light con di blade ho fatto un video separato sulla light con di blade che potete guardare comunque questo dura fino al 9 agosto perché poi esce il banner di kafka e primo evento invece è un eventino dal 21 luglio al 7 agosto un eventino dove prendiamo 500 jade e i libri per craftare le relic molto comodo e poi i track of destiny classico e il classico e secondo e ventino dal 28 luglio al 14 agosto prendiamo altre 500 jade libri e a eder per expare personaggi e light con più tracks of destiny e siccome abbiamo due ventini piccoli significa che l'evento grande è quello che poi ci dà e la resin per craftare le relic con la main stat che vogliamo e mille passa gemme e i tanti libri materiale yada yada crediti arriva con la patch con kafka e non con blade quindi nella seconda fase della 1.2 e altro evento dal 2 agosto al 9 agosto abbiamo poi il doppio drop in simulette di universe il che significa che il doppio drop delle relic arriverà con l'arrivo di kafka e non con blade tutto qua quindi diciamo che la prima fase della patch 1.2 sarà molto più leggera rispetto alla seconda a livello di eventi ma comunque il doppio drop del simulette di universe ci fa sempre piacere anche in vista poi del nuovo simulette di universe che esce nuovo simulette di universe world set che esce permanente insieme alle nuove relic chiaramente quindi tanta roba insieme a nuovo simulette di universe esce anche il nuovo forgotten all che ci darà 1300 gemme in totale più exp più libri materiali e una yukong gratis se create al primo piano e ricordo è un forgotten all quindi sarà molto più semplice del memory of chaos e per gli interessati invece ovviamente esce un nuovo pass dal 19 luglio al 28 agosto con le concine di kafka e blade devo prendere quell'icona di kafka comunque e nuovi pacchetti e no shop dal 19 luglio al 29 agosto perché interessato insomma non li ho mai guardati però ci sono nuovi pacchetti e no shop e niente chiaramente nuova relic nuova storia eccetera eccetera quindi vedremo un po' com'è fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa 1.2 in ogni caso discord aperto a tutti se volete e noi vi ricordo un'ultima cosa tra l'altro mercoledì 19 dalle 10 alle 10.30 facciamo live pulse e dove vediamo persone pullare su blade scommettiamo sul fatto che vinceranno i 50 50 e ci prendiamo il gioco di loro ridiamo scherziamo finché poi non tocca a noi perdere 50 e 50 ma comunque per chi è interessato ci becchiamo in live oppure al prossimo video grazie mille a tutti per aver guardato e bella grazie mille a tutti per aver guardato e bella